il problema di essere un appassionato di una qualsiasi cosa nel mio caso libri manga e contemporaneamente essere uno studente universitario senza entrate fisse da investire risulta evidentemente chiaro venire bombardati di nuove informazioni di nuove uscite di cose da leggere di cose da comprare è una sorta di triste tortura cui per il momento non può esserci rimedio e quindi o si resta inevitabilmente un passo indietro non che litighi con gli amici e smetti di usare internet oppure si trovano metodi alternativi la mia sete di lettura seppur in parte sia dovuta ad una sete di conoscenza suprema dei segreti del mondo per la maggiore direi sia causata da una voglia di evasione nonostante ne vada continuamente alla ricerca non sempre mi rifugio in opere che potremmo definire capolavori anzi comunque mettendo da parte tutti quei portali per l'inferno che sono i siti di scan tra i servizi gratuiti esiste webtoon un'applicazione di origine coreana che permette di leggere gratuitamente i fumetti che offre una sorta di youtube del fumetto in cui puoi pubblicare liberamente creare la tua community e se va tutto bene cominciare anche a guadagnare qualcosa e il paragone con youtube non è casuale potendo pubblicare ognuno di noi senza problemi la qualità generalmente non è elevatissima sia in termini di idee che in termini di disegno prima di riuscire a trovare un lavoro che sia almeno decente bisogna passare per un sacco di pubblicazioni dubbie così l'applicazione invece di consigliarti i fumetti in maniera casuale cerca di spingere maggiormente i fumetti di autori affermati diciamo gli autori che hanno avuto avremmo detto su youtube 900 anni fa la partnership con l'uscita dell'anime di tower of god allora uno dei fumetti di punta di webtoon ho pensato di realizzare questo video per parlarvi di altri tre lavori presenti sulla piattaforma in maniera totalmente gratuita che io seguo e apprezzo blue chair credo sia effettivamente il fumetto più famoso su questa piattaforma ok prima di cominciare a parlarne sì i disegni non sono eccezionali non ci sono dubbi ma è giusto che sia così il fumetto non racconta un'unica storia super complicata con combattimenti e nemici ma è uno slice of life mischiato alla stand up comedy in cui l'autore attraverso il protagonista racconta dei suoi pensieri delle sue avventure condendole con elementi fantastici personaggi improponibili e un sacco di internet culture riferimenti citazioni e memini soprattutto al punto che qualche tempo fa un particolare episodio divenne un meme a sé stante noto a livello mondiale cosa che anche se non sembra effettivamente difficile da realizzare proprio da inserire nel proprio curriculum almeno dai le battute tra gli attuali quasi 650 episodi si basano molto sul concetto del relatable del far sentire il lettore in una situazione familiare a lui vicina non a caso uno dei personaggi secondari più noti è life la vita che viviamo ogni giorno con la sua clava ai muscoli sovrumani pronti a distruggere ogni nostro tentativo di felicità tale meccanismo di comicità è poi lo stesso che sta alla base delle vignette che vanno per la maggiore su instagram non a caso infatti traslando il suo lavoro il profilo dell'autore è arrivato a contare ormai 2 milioni di seguaci senza dubbio per chi sia alla ricerca di una comicità elaborata o che ti lascia effettivamente spunti per una qualche riflessione profonda no questo non è il fumetto adatto ma per farsi rubare un sorriso allora ok alla perfezione il mio consiglio è quello di dare una possibilità a quest'autore non ci sono problemi di accesso all'opera ogni capitolo va bene come primo come punto di partenza quindi in caso foste interessati vi lascio in descrizione il profilo per seguirlo poi in caso di apprezzamento la mega maratona per recuperare ogni singola vignetta è garantita come blue chair poi cercando di sfruttare la scia e acquisire lo stesso successo ce ne sono altri 100 milioni di lavori in qualsiasi tipo di declinazione per quanto riguarda la mia opinione degno di nota è my giant nerd boyfriend sempre uno slice of life in cui la protagonista racconta mediante i suoi occhi da innamorata la vita del suo ragazzo andandone a scoprire i gusti le passioni e le abitudini anche qui il tema nerd regna sovrano dato che nella coppia sono entrambi videogiocatori e divoratori di anime manga quindi per chi sia alla ricerca di riferimenti e citazioni è un semaforo completamente verde come detto prima l'applicazione è di origine coreana una nazione che sul mercato videoludico e tecnologico ci basa un enorme parte della propria economia quindi la massiva presenza di opere legate a questi ambiti non deve sorprendere e a tal proposito voglio parlarvi di the gamer lo dice il titolo stesso il protagonista è un mega videogiocatore espertissimo di qualsiasi tipo di videogioco ne conosce le dinamiche e come comportarsi in ogni tipo di situazione ma nella vita reale frequenta la scuola superiore ma è uno studente come tanti altri non eccelle in nessuna materia o attività il racconto sia preponendo una domanda al lettore una domanda che si traduce in una fantasia che ogni videogiocatore di rpg ha avuto almeno una volta nella vita non sarebbe bello se la vita reale fosse come un videogioco in cui ognuno di noi potrebbe salire di livello aumentare le proprie statistiche a piacimento favorendo intelligenza forza o fortuna magari il protagonista allora finisce senza sapere nemmeno come esattamente in questa situazione una mattina mentre era seduto la sua scrivania intento studiare sua madre gli chiede di andare a comprare qualcosa per pranzo tutto ok se non fosse vero il fatto che questa richiesta gli appare su una finestrella sospesa nel nulla davanti ai suoi occhi come se fosse una quest in un videogioco da quel momento in poi per ogni richiesta compare una missione e ad ogni missione completata corrispondono punti esperienza fino al punto da riuscire a livellare aumentando di livello allora possono essere aumentate le statistiche che provocano delle effettive conseguenze nel protagonista aumentare la forza lo rende davvero in grado di sollevare masse maggiori ma ragionandoci un attimo su a cosa servono i muscoli nella nostra epoca e l'intelletto l'intelligenza la reale forza dei nostri tempi così il protagonista presa la sua decisione si lancia verso un aumento di statistiche incentrato sull'intelligenza appunto il quale tradotto il linguaggio da videogiocatori significa diventare un mago imparare la magia esistente ed anzi molto importante per il mondo in cui si svolgono le vicende dalle finestrelle con le quest e vedere i nomi e il livello delle persone il protagonista si incamminerà sempre di più verso un mondo sconosciuto e crudele un mondo che sfrutta i più deboli per il bene dei esseri più potenti un mondo fatto di persone che puntano esclusivamente al proprio guadagno un mondo noto con il nome di abisso al suo interno allora per riuscire a sopravvivere bisognerà essere forti e continuamente crescere tra gli allenamenti e combattimenti il protagonista diventerà sempre più famoso e in questo mondo corrotto verrà riconosciuto con il titolo the gamer i nemici che gli si pareranno di fronte poi avranno i più svariati tipi di poteri da menti alveari in grado di raccogliere una grande energia all'interno di un singolo corpo potremo avere druidi streghe negromanti famigli insieme a libere interpretazioni di qualsiasi tipo di mitologia soprattutto orientale cosa che non dico lo faccia arrivare ai livelli di shaman king che è praticamente un'enciclopedia su culti credenze e religioni però gli da quel piccolo tocco in più che non fa assolutamente male da questo racconto della trama come prima cosa mi sembra evidente il problema della continuità della narrazione il fumetto racconta un'unica storia quindi contrariamente a blucer non sarà possibile accedervi da uno qualsiasi dei capitoli ma bisognerà necessariamente cominciare dal primo e pian piano recuperare tutto la cosa negativa è che al momento siamo già più di 300 capitoli con il passare del tempo tale lavoro diventerà sempre più lungo e quindi pesante questa caratteristica negativa sfortunatamente se la portano dietro tutti quei fumetti che su questa piattaforma decidono di raccontare un'unica storia continua dato che emergere e soprattutto riuscire a guadagnarci qualcosa dal proprio lavoro risulta molto complesso una volta che gli autori acquisiscono quel certo livello di popolarità non avendo come nel caso giapponese una rivista editor e sondaggi bronti in caso di necessità a tagliarti le gambe cominciano pian piano a trasformare la storia in modo da poterla far andare avanti potenzialmente all'infinito tutte le trame di questo tipo di storie sono molto semplici non c'è quasi mai un nemico finale ben chiaro e definito o comunque uno specifico obiettivo da raggiungere prendiamo proprio tower of god ad esempio abbiamo il raggiungimento della cima della torre come obiettivo finale ma la scalata vera e propria alla fine non esiste è più una cosa metaforica che altro non ci viene mai descritto bene cosa sia effettivamente questa cima e in più sappiamo per certo esistere qualcosa dopo quello che renderà bello queste serie allora sarà il world building oppure il complesso sistema di regole alla base dei combattimenti e l'utilizzo delle magie tornando al discorso allora recuperare opere in corso potrebbe risultare un'impresa difficile così come riuscire ad assistere alla conclusione di queste opere potrebbe risultare un'impresa ancora più difficile ma questo non vuol dire che non ne valga la pena in un modo o nell'altro chi più o chi meno le storie che diventano popolari hanno un perché ripeto obiettivo di questa applicazione non è farti riflettere sul senso della vita ma intrattenere fare evadere dalla realtà quindi quello il tipo di fumetto che troveremo the gamer allora ha come particolarità e riuscire a declinare tutte quelle sfaccettature del videogioco nella vita reale offendere in modo scherzoso una ragazza porterà ad un messaggio di pericolo per l'eventuale vendetta in tipico stile manga in arrivo studiare o andare in palestra farà guadagnare punti esperienza dedicarsi alla cucina o a lavare i piatti permetterà al protagonista di sbloccare una nuova abilità inutile in combattimento ma utile a creare quel siparietto comico il videogioco è traslato nella realtà in un fumetto che potremmo dire concretizza il concetto di gamification abbiamo quindi parlato di uno dei fumetti con capitoli stand alone è uno dei vari fumetti di combattimento a completare quella che è la trinità di webtoon allora mancano i fumetti a tema amoroso come detto prima la piattaforma è come youtube la pubblicazione è completamente libera quindi le declinazioni dei manga sentimentali sono infinite passiamo da quelle che sono delle vere proprie fan fiction a storie in cui la ragazza è una programmatrice di videogiochi e il ragazzo è uno youtuber noto a livello mondiale e sì questi sono i tempi che avanzano in qualunque caso tra le varie opere quella che voglio consigliarvi è come the gamer anche questo è il problema della continuità della trama gli attuali 470 capitoli per quanto interessanti potrebbero risultare problematici per qualcuno ma ci tengo particolarmente a consigliare questo fumetto la sua lunghezza poi si potrà notare anche dal miglioramento nella qualità del disegno e veramente giudicate voi stessi l'enorme cambiamento che ha avuto nel tempo quello a cui ci troviamo di fronte è la vita di yumi la nostra protagonista una ragazza che con il proseguire dei capitoli impareremo lentamente a conoscere grazie ai rapporti che svilupperà con le altre persone colleghi amanti rivali o amici che sia la particolarità allora sorge in questo momento invece di concentrarsi sui rapporti tra le persone e quindi farci vedere l'evoluzione dei personaggi esclusivamente grazie alle decisioni che esse compiono rispetto ad eventi esterni la storia ci presenta e ci fa esplorare il solo personaggio di yumi sfruttando una tattica molto particolare le sue cellule le cellule sono degli omini degli esserini che vivono all'interno di yumi sono rappresentazioni della sua personalità dei suoi modi di fare e di essere ma per spiegarmi meglio vi faccio degli esempi la cellula dell'appetito è quella con il compito di saziare lo stomaco di yumi quando ve ne bisogno tale bisogno in particolare verrà rappresentato dalle dimensioni della cellula stessa l'enorme statura molte volte superiore rispetto a quella di una normale cellula rappresenterà un grande appetito da parte della protagonista mentre dimensioni normali rappresenteranno la sazietà per andare a personalizzare yumi allora senza che ci venga detto in maniera diretta in un dialogo o in una vera e propria descrizione la cellula dell'appetito la vedremo sempre gigante colossale e alla ricerca di cibo proprio a rappresentare l'infinito appetito della protagonista specialmente per i suoi piatti preferiti la cellula detective invece è la cellula addetta ai ragionamenti logici alle investigazioni e quella parte di yumi che scruta cosa si nasconde dietro delle parole che le vengono dette con un particolare tono quella che intuisce le intenzioni di uno sconosciuto le sue deduzioni sono sempre corrette ma non sempre la logica e la via migliore a contrapporsi allora troviamo la cellula romantica addetta come dice il nome stesso al romanticismo alle emozioni forti a quelle decisioni prese più con il cuore che con la testa e così via poi cellula delle buone maniere cellula dello stile cellula del risparmio cellula scrittrice cellula dell'ansia dell'amore ogni aspetto di quello che compone una persona prende forma in un'infinità di cellule tutte agiscono con il solo obiettivo di far raggiungere ai yumi quello che desidera e nel miglior modo possibile il passo successivo allora sta nel riuscire a spiegare la mente e le azioni attraverso il comportamento delle cellule e il fumetto ci riesce perfettamente nel momento in cui banalmente nel fare shopping andiamo a scegliere un capo più bello ma più costoso magari fuori dalla nostra portata rispetto a quello che avremmo comprato normalmente significa che le nostre cellule dello stile del risparmio nella nostra testa avranno avuto una discussione un combattimento uno scontro e quella dello stile ne sarà risultata vincitrice e lo scontro verrà rappresentato nella sua interezza senza risultare mai banale e scontato i dialoghi tra le cellule rispecchieranno la perfezione i pensieri che ci girerebbero in testa del tipo non dovrei costa troppo però mi starebbe bene e così via tutti i ragionamenti umani vengono trasposti nella dimensione delle cellule nell'approcciarci a qualcosa di nuovo ci sarà una muraglia a nostra difesa che con un efficacissimo sistema sarà in grado di accettare o rifiutare qualsiasi cosa cose che finiamo per adorare oggetti film cibo risultano in grado di abbattere senza problemi ogni tipo di difesa e finiscono per far parte di noi per sempre nel momento in cui dovremo prendere una decisione importante invece faremo sempre riferimento a quella che è la nostra scala di valori scala che verrà identificata attraverso una vera e propria classifica all'interno del fumetto c'è chi considera se stesso al primo posto c'è chi considera più importante dedicarsi agli altri c'è chi mette al primo posto il proprio amante o la propria famiglia e questa classifica può cambiare ad un certo punto della nostra vita l'autore sarà in grado di descriverci i personaggi anche mediante questa classifica sempre in questa maniera non diretta è sorprendente e soprattutto divertente scoprire tutte queste infinite dinamiche che l'autore riesce a creare per quanta voglia io abbia di raccontarvele tutte mi sento trattenuto da questo senso di non spoilerare troppo per non rovinarvi il gusto della scoperta per dirvi anche il sesto senso finisce per avere una spiegazione o il classico riuscire a pensare una risposta corretta solo quando ormai è troppo tardi tipo quando ci stiamo facendo la doccia e sei mesi prima abbiamo avuto una discussione riusciamo a pensare alla risposta perfetta anche la telepatia con le altre persone viene spiegata ci sono mille cose che vorrei dirvi ma mi fermo e mi limito a consigliarvi fortemente questo fumetto sorpreso di come assolutamente non se ne senta parlare traendo le conclusioni allora vi consiglio di recuperare tutti questi fumetti e l'applicazione in generale con tutta probabilità se siete alla ricerca di un lavoro che tratti massimi sistemi dell'universo questa applicazione non fa per voi ma per occupare quei minuti di treno come faccio io da pendolare oppure pausa tra lezioni o in bagno prima di andare a letto è la perfezione sono sicuro che tra l'infinità di lavori attualmente sconosciuti si possano nascondere dei veri e propri diamanti in grado di portare innovazione sia sull'applicazione di webtoon stessa sia al mercato manga in generale nell'eventualità che l'anime di tower of god e poi quelli annunciati diventino famosi e popolari come ci si aspetta dato il gran parlare webtoon potrebbe diventare un nuovo e fondamentale concorrente nel mercato dell'animazione dato che la sua applicazione è già straricca di idee e possibili successi mondiali che porterebbero poi a nuovi autori liberi di poter pubblicare sulla loro applicazione nuove idee e così via si instaurerebbe un ciclo che per noi lettori non sarebbe altro che positivo grazie a tutti grazie a tutti